La scensione di Gesù al cielo ha un grande significato per la comprensione del destino personale dell'uomo e di quello di tutta la storia. Dio che si è fatto uomo nel grembo della Vergine Maria per assumere la nostra natura umana, dopo la vittoria sulla morte, ascende al cielo, portando la nostra umanità dentro l'oceano sconbinato dell'amore trinitario. Ci è così svelato il destino mirabile che Dio ha preparato a noi, povere creature. Gesù di fatti è la via che ci conduce alla meta, è il primogenito che prepara il posto ai fratelli che lo seguono. È il vittorioso che, sconfitti tutti i nemici dell'umanità, la introduce nella gloria che Dio ha preparato. Gesù di fatti è la via che ci rende possibile reale se avremo fiducia in Lui e se decidiamo di seguirlo. Esiste una via di uscita da questo mondo, dove l'uomo geme e perisce. Questa via si chiama Gesù. Egli ci ha aperto quel varco che va dalle tenebre alla luce, dalla tristezza alla gioia, dalla morte alla vita, dal tempo all'eternità. Leggiamo nella prima lettura della Messa di oggi, mentre gli Apostoli chissano il loro Signore che ascende al cielo, improvvisamente una nube lo sottrae al loro sguardo. Si tratta di una osservazione densa di significato. Da quel momento, di fatti, comincia per gli Apostoli il tempo in cui potranno vedere Gesù unicamente per mezzo della fede. Prima potevano vederlo con i loro occhi di carne, ora soltanto con gli occhi dell'anima. Per gli Apostoli comincia quel pellegrinaggio che sarà quello di tutta la Chiesa, di ognuno di noi, dove è possibile seguire Gesù soltanto con la virtù della fede. La malattia mortale che oggi mina alla radice la vita di non pochi cristiani è la mancanza quasi totale di fede. Tutto ciò che sanno esprimere è una vaghe credenza in Dio, che però non diviene una luce che illumina la vita. Indicando la meta verso la quale dirigerla. Senza la fede, l'uomo non sale sulla barca della salvezza, ma rimane in balia dell'oceano minaccioso del male. Mentre gli Apostoli stanno fissando lo sguardo in alto verso Gesù, che è ormai scomparso alla loro vista, ecco dei messaggeri celesti si avvicinano dicendo loro, uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? E l'invito ad affrontare un tempo nuovo, ad assumersi le responsabilità e incominciare ad adempiere quella missione per la quale Gesù li aveva lungamente preparati. Si apre quindi il tempo della Chiesa, durante il quale la salvezza che Gesù ci ha ottenuto deve essere comunicata agli uomini di tutte le generazioni, fino alla fine del mondo. Gesù aveva dato agli Apostoli il comando perentorio, andate, e quel pugno di uomini in pochi anni aveva conquistato il mondo fino ad allora conosciuto. Coraggiosi, audaci, instancabili, non hanno risparmiato se stessi fino al dono supremo del martirio. Ogni cristiano deve sentirsi inviato ai fratelli come testimone della salvezza, della verità e dell'amore. Non possiamo dimenticare il Vangelo e la parola è parola viva, senza la quale gli uomini camminano nelle tenebre. In un mondo in cui alla verità si sostituiscono le opinioni incerte passeggere degli uomini, non dobbiamo temere di testimoniare quella verità che Dio ci ha donato perché camminassimo nella luce. Quella verità che dobbiamo portare senza rispetto umano, ma con forza e umiltà, è Gesù. Ogni sua parola è un tesoro prezioso con cui dobbiamo ammaestrare un mondo che è incapace di dare una risposta agli interrogativi riguardanti il senso e il valore della vita. Colpisce profondamente come molti, pur avendo ricevuto la grazia della fede, non sentono per nulla le esigenze di testimoniare. Per quale motivo? La ragione è molto semplice. La verità della fede non ci coinvolge. Il Vangelo ci lascia indifferenti. Non abbiamo ancora scoperto in Gesù l'amore della nostra vita. Allora, finché abbiamo tempo, impostiamo la nostra esistenza, ascoltando, amando, seguendo e testimoniando maggiormente Gesù a tanti cristiani che sono inquieti, incerti, abbattuti, come quei viandanti che, avendo perso l'orientamento, vagano qua e là, senza un traguardo. Oggi, insieme alla festa dell'Ascensione al cielo, ricordiamo anche la Madonna dei Boschi, la cara immagine che veneriamo nel nostro santuario, anche se quest'anno l'emergenza piogge non ci permette di celebrarne la festa. Approfittiamo comunque di questo giorno santo per aprirle tutto il nostro cuore con amore filiale e con fiducia illimitata, convidandole le nostre ansie e preoccupazioni e pregandola che non ci faccia mai mancare il suo prezioso aiuto materno. Rivolgiamoci spesso a lei perché la sua materna mediazione sia per noi luce e forza del nostro cammino verso la patria beata e perché impedisca alle potenze dell'inferno di prevalere su di noi. Non temiamo perciò, ma anzi convidiamo nel suo amore di madre, perché ella ci protegge e mai ci abbandona. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.